Bentornati con Radio Wine Design siamo qui con Liu Pambuffetti della cantina Scaccia Diavoli grazie per essere venuta da noi in puntata in radio e portando con te probabilmente il vino più rappresentativo dell'azienda che è appunto Scaccia Diavoli Rosè un metodo classico da Sagrantino Brut ma partiamo subito con una domanda che è fresca perché questo nome è così bello allora il vino più rappresentativo se mi sentono a Scaccia Diavoli mi uccidono nel senso che noi comunque siamo nella zona del Monte Falco Sagrantino di OCG e diciamo che quello è il nostro vino principe però come vino particolare, come novità relativamente nuova perché già dal 2005 comunque produciamo questo metodo classico a base di Sagrantino 100% ecco, volevo precisare che se c'è la differenza che poi c'è anche la versione in taglio con lo chardonnay esatto, sì due versioni divi Nicola mentre fai te posso già berlo mentre tu assolutamente grazie perché noi l'abbiamo bevuto precedentemente per capire l'unica cosa che farò oggi grazie ciao mi ecclisso ciao sì, no io volevo già partire con una domanda abbastanza fresca siete appena tornati dal Vinitaly e quindi volevo un pochino sapere come è andata quali sono stati i feedback vostri come azienda ma anche i feedback da parte dei clienti degli assaggiatori dei degustatori e a quale edizione siete di questo grande evento mediatico dedicato al mondo del vino sì il Vinitaly è la 53esima edizione quindi comunque è ormai un evento storico noi siamo penso adesso quelle che mi ricordo io circa 20 poi adesso edizione più edizione meno quindi comunque possono bastare sono poche sì infatti da quando io ero molto piccola ecco è andata bene sicuramente c'era sempre di più e c'è sempre di più un interesse nei confronti delle regioni magari meno note come appunto l'Umbria che diciamo le più note ovviamente sono Toscana Piemonte Veneto però in questo periodo vitigno autoctoni e regioni diciamo più piccoline con prodotti magari più particolari sono molto ricercate quindi abbiamo avuto un grande afflusso di internazionali ovviamente di nazionali e di corregionali è andata molto bene e stiamo adesso vedendo i frutti nel senso che dobbiamo sviluppare poi attraverso i contatti ricevuti insomma un feedback poi reale e concreto quindi di creare una rete anche al di fuori dell'Umbria insomma sì sì l'idea è comunque quella di far conoscere i nostri prodotti comunque in tutto il mondo visto che il mondo del vino è anche relativamente piccolo quindi in qualche modo può diciamo l'informazione può arrivare veramente dappertutto assolutamente bisogna ecco emergere e rinnovarsi ogni volta senti invece se vogliamo parlare proprio dell'azienda andare nel particolare quando sono venuta da te mi hai detto una cosa che mi è rimasta molto impressa infatti l'ho segnata in grassetto sul taccuino e mi hai detto che il vino lo fa anche l'edificio e questo è un pochino il tratto particolare dell'azienda Pambuffetti dell'azienda Scacciadiavoli risalente al 1884 quindi al principe Ludovisi alla sua grande diciamo visione all'avanguardia un po' futuristica mi piacerebbe insomma che spiegassi appunto il concetto di edificio e vino anche ai nostri ascoltatori sì sì allora innanzitutto visitando la cantina è più facile insomma spiegarlo che con le parole quindi chiunque invitato però il concetto è questo che ovviamente fino a 800 quando hanno fondato la cantina non c'era assolutamente tecnologia e infrastrutture quindi il principe Boncompagno Ludovisi che l'ha costruita ha capito esattamente le condizioni diciamo geografiche del luogo ha capito proprio il luogo è entrato proprio all'interno dell'essenza del luogo e ha costruito una cantina che potesse aiutarlo ovviamente a produrre vino senza avere all'epoca elettricità o acqua diciamo del servizio pubblico ecco e quindi ha costruito questa cantina su quattro livelli che in realtà sono cinque perché ce n'è uno ancora uno interrato ma poi sotto quello interrato ce n'è un altro che appunto sono delle cisterne di acqua quindi praticamente ha costruito questo edificio dentro la collina e la produzione avviene attraverso un processo di insomma un processo di gravità gravitazionale per cui il vino è lavorato dall'ultimo piano fino al piano sotterraneo attraverso quattro piani appunto quattro livelli insomma dell'edificio è una catena di montaggio facilitata anche da questi tubi che arrivano direttamente dalla montagna all'edificio e man mano si scende ai paninferiori esatto fino al piano sotterraneo dove c'è una cisterna del 1909 in cemento uno dei primi esempi di cemento nel mondo del vino appunto è una cisterna storica molto interessante da visitare assolutamente io che l'ho vista è qualcosa che oggi si tenta di riprendere si tenta di rifare il vino in modo innovativo ma riprendendo quelle che sono le tecniche del passato posso dire solo che figata e voglio vederlo assolutamente ci ritorneremo da scacciadiavoli ma a proposito appunto di scacciadiavoli da dove trae origine questo nome nel frattempo io farei vedere la bottiglia che l'etichetta è nuova giusto sì l'etichetta l'abbiamo appena presentata perché appunto abbiamo voluto innanzitutto rilanciare questa tipologia di vino che facciamo dal 2005 ma è rimasta sempre una piccola produzione un po' diciamo che si trova in cantina soprattutto quindi vorremmo invece farla conoscere a più persone possibili soprattutto in questo momento in cui lo spumante e le bollicine in generale hanno diciamo hanno un successo particolare e quindi abbiamo proprio per questo motivo rifatto il packaging quindi l'etichetta e ovviamente abbiamo puntato su una delle caratteristiche nostre che è appunto il nome scaccia diavoli non abbiamo voluto chiamarlo diversamente semplicemente abbiamo utilizzato il nostro stesso nome e abbiamo rappresentato una nell'etichetta una donna una contadinella e il diavolo perché abbiamo rappresentato praticamente la leggenda dietro al nostro nome quindi il fatto che vicino alla cantina c'era un villaggio dove abitava un esorcista che con i vini della zona liberava le persone impossessate dal diavolo questo esorcista diede il nome appunto al borgo ancora esistente che è adiacente alla cantina e di conseguenza la cantina appunto ha preso il nome dal luogo dal borgo e quindi dall'esorcista e quindi ci siamo portati dietro nell'etichetta questo racconto insomma quando storie e tradizioni si fondono con quelle che sono le realtà vitivinicole e non della zona di Montefalco e anche questo è identificativo a mio avviso del luogo di un'azienda è fighissimo lo storytelling che c'è dietro l'azienda molto bello non sapevo questa storia io dello schiacciadiavoli bellissimo è un po' difficile per noi italiani no ma per diciamo stranieri soprattutto anglosassoni è un po' difficile da pronunciare quindi dobbiamo fare un corso su come pronunciare scacciadiavoli però un po' lungo però effettivamente diciamo racconta una storia del luogo quindi non non possiamo cambiarlo assolutamente no ma è bellissimo perché ma poi anche in rilievo no è molto elegante a mio avviso questo packaging molto bello molto molto bello sono i rilievi che anche si percepiscono al tatto al tatto sì 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 anche un po' artistica di design no anche questa etichetta perciò siamo qui insomma non c'è un motivo se siamo all'istituto italiano di design effettivamente senti mia domanda la costruzione poi dell'edificio così come in passato oggi cosa ha portato all'azienda vi sentite all'avanguardia vi ha aiutato nelle lavorazioni insomma un pochino questo concetto sicuramente diciamo l'edificio che all'epoca era modernissimo alla qualità come tutte le cose fatte bene di perdurare nel tempo quindi di rimanere comunque con le stesse caratteristiche e di facilitare la produzione a livello incredibile perché ovviamente il vino viene trasportato semplicemente con dei tubi per gravità una cosa molto banale ma che in realtà ha un effetto qualitativo molto importante nel vino perché non viene stressato insomma da macchinari particolari nello stesso tempo temperatura umidità ventilazione sono tutti naturali perché gestiti appunto dal fatto che è scavata dentro la collina quindi diciamo c'è un grande risparmio energetico quindi sono temi molto moderni molto contemporane in qualche modo riusciamo a essere all'avanguardia anche su questi temi di sostenibilità grazie appunto a questo edificio innovativo e che ci aiuta a produrre il vino nel migliore dei modi beh sì tante cantine oggi fanno costruzioni apposite per avere la temperatura non controllata ma naturale invece voi vi siete ritrovati con un edificio che risale ripetiamo al 1884 molto all'avanguardia grazie alla visione del principe rudovisi senti la cantina si trova a Montefalco con un territorio e un terreno fatto argilloso lacustre direi terroir scusami se ti parlo no il terrore è l'insieme Nicola Nicola ogni volta ti devo correggere un corso dobbiamo fare un corso velocizzato di terminologia qui c'è il batonage poi me lo racconti ci siamo no qui non c'è il batonage però è uguale è glisso di nuovo grazie Nicola arrivederci è stato un piacere senti quindi coltivate come bacca nera abbiamo il Sagrantino il Sangiovese il Merlot per avere i vostri Umbria EGT il Montefalco Rosso e chiaramente la DOCG del Sagrantino è la sua versione passita per le bacche bianche abbiamo il grechetto Trebbiano Spoletino lo Chardonnay ma io vorrei soffermarmi su quella che penso la chicca la particolarità dell'azienda Scacciadiavoli che ha voluto a mio avviso sfidare anche un po' le difficoltà di un vitigno che ha tecnicamente insomma un bel patrimonio polifenolico che è quello di fare un metodo classico appunto con il Sagrantino sia nella versione in purezza quindi questo rosè che noi stiamo degustando adesso sia nella versione tagliata con lo Chardonnay la mia domanda perché fare questa cosa cioè è una voglia di mettervi in gioco e sfidare quelle che possono essere difficoltà o avete voluto puntare su le caratteristiche del Sagrantino allora diciamo che c'è un po' tutto nel senso che innanzitutto il Sagrantino sicuramente è noto come un vino rosso molto corposo molto complesso molto adatto a cibi anche un po' grassi perché grazie ai polifenoli e tannini che ha ripulisce bene tutta la bocca e quindi diciamo è un po' un vino anche per le grandi occasioni un vino da regalare perché ci si fa comunque bella figura e quindi abbiamo innanzitutto pensato come berlo magari nelle giornate a fosse d'estate ad esempio una cosa molto banale poi abbiamo questo dal punto di vista diciamo degli abbinamenti poi dal punto di vista della conoscenza del nostro vigneto sapevamo che c'era una zona più fredda un po' meno vocata per un uva rossa diciamo che molto matura ma in realtà ci dava un'uva un po' più acida abbiamo un po' studiato le caratteristiche di quest'uva abbiamo visto che il raccolto con largo anticipo era una base diciamo produceva un'uva appunto raccolta comunque ad agosto quindi due mesi in anticipo ci dava delle caratteristiche che potevano essere adatte per un vino base da rifermentare quindi grande acidità una gradazione alcolica relativamente più bassa il Montefalco Sagrantino di OCG arriva di solito mediamente intorno ai 15 gradi raccolto due mesi in anticipo insomma lo raccogliamo circa 11 gradi 11 gradi e mezzo e poi abbiamo visto che rilasciava non tutto quel colore appunto che è tipico in una fase di maturazione diciamo avvenuta e abbiamo fatto questo vino base prima abbiamo fatto la versione in bianco perché l'abbiamo raccolto a mano ovviamente prestato immediatamente senza nessun contatto con le bocce quindi senza nessuna macerazione e è venuto fuori questo mosto che appunto abbiamo fermentato poi abbiamo blendato con un 15% di Chardonnay e abbiamo visto che era comunque una base molto interessante aveva le caratteristiche diciamo per qualcosa di interessante anche perché comunque il lato tannico tipico del Sagrantino si sente comunque quindi diciamo la personalità in qualche modo è rispettata infatti è un vino che si abbina molto bene ad esempio ai salumi umbri il prosciutto di norcia insomma o anche dei formaggi addirittura sto già sognando la prossima volta tocca fare anche un abbinamento in diretta secondo me porteremo l'enologo della salumeria e quindi ecco quindi insomma abbiamo visto che poteva funzionare poi abbiamo fatto successivamente la versione rosato facendo semplicemente qualche ora di macerazione impressa per tirare fuori il colore e poi ecco poi abbiamo fatto sperimentazioni di affinamento sui lieviti essendo appunto metodo classico siamo partiti da 12 18 24 36 insomma siamo andati molto avanti fino a che adesso addirittura la nostra versione brut bianco è affinato per 7 anni sui lieviti il rosato siamo rimasti a 3 anni sui lieviti perché comunque è un prodotto più diciamo più fresco più fruttato che appunto ricorda anche a livello aromatico un pochino più il sagrantino sì sì questo poi è stato sboccato mi diceva a dicembre 2018 quindi è nata 2014 e imbottigliamento inizio 2015 sboccato ora a dicembre 2018 fantastico e parlando poi di questo metodo classico da sagrantino no e un pochino anche di di mercato tu mi hai detto che vendete il 60% qui in Umbria il che è una novità perché tutte le cantine sino ad ora intervistate hanno un 60% di vendita in Italia all'estero un 5% in Italia e il resto della percentuale nel mondo mentre il metodo classico mi hai detto che l'80% è venduto in Umbria ora questa è una scelta vostra personale di riuscire a commercializzarlo in Umbria o avete in mente come una vision insomma di riuscire a portare il metodo classico sagrantino per il resto d'Italia quindi farlo conoscere farlo apprezzare allora innanzitutto la nostra cantina appunto essendo una delle cantine storiche di Montefalco essendo insomma anche la nostra famiglia originaria di lì e quindi siamo abbastanza radicati sul territorio Umbro e quindi per noi è sempre stato il mercato più importante riguardo allo spumante diciamo che comunque è una produzione abbastanza piccolina nel senso produciamo circa 15.000 bottiglie per tipo al momento quindi comunque sicuramente è stato più facile comunicarlo ad esempio in cantina ovviamente dove tra l'altro è uno dei punti dove ne vendiamo di più perché tanti non lo conoscono ancora e invece quando poi vengono a trovarci possono assaggiarlo oppure insomma nei dintorni di Montefalco perché ovviamente come spumante invece di presentare magari uno spumante nazionale come può essere il Franciacorta il Trento Doc visto che siamo in Umbria soprattutto nella zona di Montefalco fa piacere anche ai nostri colleghi ristoratori e notecari comunque di presentare qualcosa del posto ovviamente nel mercato mondiale dobbiamo fare un atto di comunicazione perché appunto essendo una piccola produzione stiamo appunto provando adesso a cercare di un po' sgomitare per farci conoscere il prezzo siamo appunto stiamo un po' adesso provando a cercare di presentarlo anche all'estero anche se ad esempio viene già acquistato in California e a Washington DC comunque sono due mercati per noi molto importanti infatti mi dicevi prima che sarai in America nei prossimi nei prossimi tempi proprio per promuovere quello che è l'azienda Pambuffetti Scaccia Diavoli noi nel frattempo io comincerei già a fare la degustazione e però vorrei aggiungere una cosa l'azienda Scaccia Diavoli è l'unica che fa il metodo classico da Sagrantino attenzione è l'unica in tutta l'Umbria in tutto il mondo no scherzo in tutto il mondo nel senso che il Sagrantino è un'uva diciamo molto legata al territorio di Montefalco tanto che viene protetta per questo nel senso che è una diciamo la Montefalco Sagrantino di OCG è appunto protetto da un disciplinare ma ad esempio il nome Sagrantino non si può scrivere in nessun'altra parte del mondo se non nel territorio di OCG Montefalco assolutamente quindi di conseguenza essendo diciamo l'area di Montefalco dove si produce il Sagrantino essendo noi diciamo gli unici in questo momento nell'area di Montefalco per adesso non sappiamo insomma che venga prodotto in nessun'altra parte del mondo essendo comunque il Sagrantino un vitigno molto legato al territorio dove ci troviamo certo noi adesso manteniamo quello che è il primato di questa bellissima grandissima azienda senti nel frattempo io leggerei delle domande che ci sono arrivate in diretta Nicola se ce le vuoi leggere così non spostiamo il mondo il valletto si attiva direttamente grazie Nicola nel frattempo nell'assaggio che abbiamo fatto allora ci sono un sacco di saluti e poi a un certo punto arriva il primo quesito di Kevin Soine si l'ho incontrato al Vin Italy però è stato penso il suo babbo spiegarmi tutto quindi c'è un certo Kevin Soine che raccontava le spese di Vin Italy poi ancora c'era mio papà mio cugino Jacopo e il nostro cantiniere Daniele eravamo noi quattro allo stand probabilmente noi eravamo all'interno dove appunto facevamo degli appuntamenti soprattutto con i buyer internazionali poi abbiamo ancora Kevin che ci chiede si è la cosa che mi ha colpito di più Tannini fine ma presente sì nel senso che il Tannino è ben caratteristico di questo metodo classico perché noi ripetiamo stiamo degustando il rosè quindi abbiamo il sagrantino 100% entriamo più sul tecnico dove Nicola Palumbo capisce tantissime cose che tiraggio avete per quanto riguarda il metodo classico allora appunto come come dicevamo la produzione non è grandissima il tiraggio viene fatto di solito diciamo il vino base ovviamente viene fatto a fine agosto inizio settembre il tiraggio lo facciamo di solito in primavera perché appunto abbiamo visto che la seconda fermentazione in primavera in questo momento in cui la natura comunque rivarte in generale e anche i lieviti hanno una dinamica di fermentazione migliore e quindi ecco ad esempio quello del 2018 l'abbiamo fatto quindi la vino base del 2018 è stato fatto il tiraggio a marzo il 20 marzo 2019 e appunto siamo intorno alle 15.000 bottiglie per tipo al momento poi ancora dosaggio dei zuccheri perché qualche anno fa mi sembrava un po' più morbido sì adesso nel rosato siamo intorno ai 6 grammi di zucchero residuo per litro e invece nel brut bianco 8 grammi comunque siamo nella categoria brut ok le domande brut sono finite le domande brut sì che poi voi comunque scendete tra virgolette in campo per il sagrantino ben tre volte no ad agosto settembre inizio settembre per fare il metodo classico bene in metà tardi per fare il passito a metà settembre sì perché in realtà vogliamo fare un passito che non sia troppo stucchevole troppo stuccherino e troppo quindi praticamente lo raccogliamo a metà settembre in modo tale che appunto c'è diciamo il sapore più amaro dei dannini che non sono ancora totalmente maturi che viene bilanciato dallo zucchero residuo nel passito e anche dall'alcol ovviamente io vero per il passito te lo dico va bene la prossima volta portiamo un passito allora scaccia diavoli ci sto ci sto ecco e poi invece il Montefalco Sagrantino secco viene raccolto di solito a fine ottobre sì perché vendemmia tardiva come sta andando quest'annata a tuo avviso? allora quest'annata diciamo che ci abbiamo avuto come tutti gli anni insomma di questo periodo soprattutto quando si dice la Pasqua è alta diciamo la paura un po' delle gelate ma sembra che diciamo ovviamente non si possono fare previsioni però per fortuna non sono previste temperature sotto una certa media prossima settimana quindi ci auguriamo che rimanga così è stato un inverno molto secco quindi da una primavera anche insomma siamo un po' sotto diciamo con le medie stagionali a livello di diciamo appunto di acqua di pioggia però ecco per adesso hanno appena germogliato le viti quindi insomma siamo ancora un po' all'inizio vorrei aggiungere un po' di poesia a tutto questo sì ho paura qual è il momento più romantico per te della produzione oddio le domande di Nicola allora io che sono molto tragica in realtà c'è una voglio portare un po' di poesia no in realtà no c'è un momento romantico che è appunto prima del germogliamento quando appunto dopo la potatura quindi è successo ormai penso qualche settimana fa dove appunto si taglia si vedono dai tagli di potatura che la linfa riparte e si chiama il pianto della vigna quindi quella è una cosa molto romantica secondo me questo ti fa impazzire sì questo sì poi ovviamente la vendemia invece è il periodo proprio più creativo è il periodo più divertente in assoluto ma come funziona cioè mettete anche la musica avete delle casse ognuno per conto suo con le cuffiette oppure vietato assolutamente no 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 in realtà siamo una squadra ormai insomma nel senso lavoriamo insieme da anni siamo sempre noi tutto l'anno quindi di base siamo molto collaudati ecco il periodo della vendemia naturalmente se c'è l'uva l'umore è molto felice siamo tutti in depressione se non c'è l'uva devo dire che è molto triste in realtà quindi dipende dalle annate può essere una bella vendemia ovviamente come una vendemia più difficile ti chiedo chiudi gli occhi e dimmi qual è l'odore che ti viene in mente quando pensi alla vigna o alla produzione beh sicuramente c'è il sicuramente sembra banale ma appunto nel periodo della vendemia è una festa anche dentro la cantina perché profumi gas carbonico attività insomma attenzione cos'è il gas carbonico per gli ignoranti no il gas carbonico è il risultato della fermentazione il lievito fermenta gli zuccheri e trasforma in alcol e gas carbonico quindi bellissimo e che odore ha che odore ha c'è un odore un po' amaro in qualche modo però nello stesso tempo diciamo toglie l'ossigeno quindi è una sensazione particolare di entrare in cantina durante la fermentazione in più gli profumi insomma è un po' ti stordisce c'è un effetto un po' particolare ok vale la pena da provare anche quello bello no volevo portare un po' di poesia in tutto questo quindi a settembre andiamo a sentire il gas carbonico di scaccia diavoli ci facciamo di gas carbonico la nuova moda sì sì non più ossigeno ma gas carbonico dalla colla a queste droghe strane al gas carbonico senti io vorrei fare vedere a questo punto anche un pochino com'è il perlage di questo metodo classico che è già nel calice da un po' e la bollicina è fine ancora persistente ed è anche abbastanza numerosa e poi il colore è fantastico perché a mio avviso è un colore questo aranciato che ricorda un pochino il tramonto no? non è quell'aranciato forte un po' aggressivo ma è molto tiepido molto caldo questa la riutilizzerò grazie con piacere direi che anche romantico posso permetterlo sì sì questa non mi era mai venuta in mente grazie con piacere avviciniamolo facciamolo ragazzi è veramente un colore molto bello poi è vivacissimo attenzione si balla in questo danza in questo calice a me piace tantissimo già alla vista olfattivamente olfattivamente faccio sempre questa cosa anziché parlare al microfono parlo al calice vabbè ci stiamo sarà sarà tra l'altro il nuovo nome del programma parlare al calice è una cosa del genere potrebbe essere una bella idea ma è romantica anche questa no? parlare al calice parlare al calice dai nuova rubrica come si dice calice in inglese? glass no è tristissimo ci serve un termine voglio fare tipo glass talking no bocciato vabbè comunque anche a naso si sente già questa freschezza del frutto che richiama quelle che sono anche le caratteristiche varietali e qui Nicola ci dirà che cosa è il varietale te l'abbiamo spiegato settimana scorsa con Livon ciao vabbè un pochino insomma quelli che sono le caratteristiche dell'uva del frutto le caratteristiche dell'uva come gli esami che ripeti la risposta del relatore insomma Dante nasce nel è molto 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 elegante io ci sento anche una fragolina di bosco molto molto caratteristica però allo stesso tempo anche una frutta polpa bianca molto fresca un mango una papaya però con un rimando un pochino di speziatura di un pepe bianco delicato insomma non non arrogante ecco perché l'eleganza di questo metodo classico nonostante sia un sagrantino il sagrantino per chi lo conosce è un po' strong no? è aggressivo qui abbiamo veramente un'eleganza visiva olfattiva e poi adesso andiamo a vedere gusto olfattiva correggimi eh se sbaglio esatto questo discorso appunto del lato speziato è una cosa che riscontriamo molto anche noi nel senso che appunto il rosato si differenzia anche un po' dal brut bianco mentre nel brut bianco c'è più aromi magari di pasticceria croissant quindi diciamo eh aromi più relativamente più morbidi più dolci nel rosè appunto c'è questo lato speziato molto spiccato molto spiccato molto particolare e anche al gusto olfattivo abbiamo eh un ingresso verticale una acidità bella preponderante una sapidità salina sul finale eh molto molto tranquilla no? non c'è quella finale amaricante che invece magari uno si aspetta no? non parlando di di sagrantino e di metodo classico è persistente perché si parla tranquillamente ancora c'è rimando alla fragolina di bosco almeno personalmente e eh lo trovo veramente eh avvolgente avvolge il palato avvolge il gusto veramente veramente un bellissimo prodotto almeno grazie a profano dico che è buonissimo grazie la mia unica definizione la persistenza c'è sì 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 questa persistenza c'è che poi lo vedresti ben abbinato anche per esempio a un risotto mantecato anche con la salsiccia no? a questo punto dato che mamma mia che sogno sì sì appunto i danini del sagrantino comunque eh diciamo danno la possibilità di di abbinarlo a tantissimi piatti in realtà non so non come un aperitivo semplicemente veramente spazio attraverso tantissimi piatti sì io ad esempio l'aperitivo non ce lo metterei perché secondo me è molto riduttivo questo è un vino è un signor vino sono d'accordo anche io hai detto questa cosa il risotto adesso non capisco più niente stasera risotto ci portiamo il vino risotto va bene bello 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 complimenti all'azienda perché ragazzi è siamo posso dire molto molto giovanili al top di gamma del prodotto sì sono anche al terzo bicchiere perché Eliana non lo sapete ma appena lo vuoto lo riempie deformazione professionale il mio compito è quello di riempire i calici e riempire i cuori ci sta io sono la parte romantica voi siete la parte più tecnica ho capito che le donne del vino vivono molto i tecnicismi del vino stesso io volevo portare questa ondata di dolcezza io che sono notoriamente un uomo romantico non è vero sto scherzando ovviamente non è molto romantico no no ah poi volevo dire c'è anche questa sensazione del tannino presente che è veramente veramente caratteristica del sagrantino cioè delicato posso dire io sono ignorante rispetto ad altri ancora un po' pungenta ma delicatissimo sto imparando qualcosa attenzione ho detto una cosa vera no? ho detto una cosa vera siamo da novembre che siamo a pala di vino Nicola qualcosa hai imparato qualcosa hai imparato senti Liu quali sono i prossimi appuntamenti dell'azienda è chiaro che tra un pochino entriamo nel mood cantine aperte però c'è un altro grandissimo bellissimo evento che mi invito a seguire ci andrò stesso io che è qui alla galleria del museo alla galleria nazionale dell'Umbria si parla appunto di bolle e bollicine quindi potresti un pochino aggiornarci così noi siamo presenti agli eventi di scacciadiavoli dovremmo fare una diretta tra l'altro già che ci siamo veniamo con la radio ci sono tre puntate tre appuntamenti e noi faremo la puntata allora partiamo il giovedì 9 maggio alle ore 18 c'è una mostra temporanea che si chiama bolle di sapone alla galleria nazionale quindi ci sono appunto delle opere che parlano delle bolle del tema delle bolle di sapone delle bolle di sapone nell'arte degli ultimi secoli praticamente e verrà effettuata una visita guidata con alla fine un focus su come si creano le bollicine nello spumante e appunto una degustazione dei nostri vini ma è una figata ma si rifanno perché le bollicine comunque si creano a livello diciamo scientifico tecnico no? è un'azione chimica ma anche io lì porterò la poesia voi siete ancora troppo tecnici troppo sto scherzando ti fai un po' paura però la cosa bellissima è che il tuo nome stupendo lo ripeto Liu come si accosta bene a un evento all'interno di una galleria nazionale è incredibile perché ridillo origine il nome da un'opera dall'opera di Puccini la Turandò no sta cosa è bellissima perché io mi chiamo solo Nicola non c'è un Liu al maschile Liu allora ragazzi noi siamo da quando è arrivato Nicola si è fissato con questo nome ed è rimasto affascinato è un nome bellissimo assolutamente però tranquillo scusa mi calmo sono troppo romantico oggi devo tornare al cinico vabbè stupendo no comunque bello e poi ci saranno anche altri appuntamenti oltre il 9 allora il 9 poi c'è ogni due giovedì quindi il prossimo mi sembra il 23 e poi il 6 di giugno si replichiamo sempre la questione sulle bollicine si 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 perché è su prenotazione quindi penso che i numeri i posti siano limitati a 30 mi sembra e quindi di conseguenza fanno 3 diciamo 3 volte mi devo prenotare per il 9 lavoro ma il prossimo ci sono 23 23 maggio radio radio design live ore 18 museo scaccia di auto registreremo tutto bolle e bollicine attenta quello che dici l'iu si si ma ti abbiamo attenzionata come dice la polizia l'iu avvisata mezza avvisata l'iu avvisata mezza salvata sei già ubriaca Eliana no no sto tranquilla va bene io sono contentissima di questa intervista sono contenta di aver rivisto l'iu perché ho avuto piacere e modo di andare in cantina e invito tutti ad andare in cantina da l'iu perché è un'azienda che va vissuta face to face no o avvi avvi insomma francese inglese decidete voi come lo volete fare questo è il nostro metodo classico rosè che stiamo degustando in questo momento e niente seguiteci seguite l'iu e l'azienda pambuffetti scacciadiavoli grazie ancora grazie a voi inoltre volevo dire che i vini che io ho preso in azienda sono arrivati nel friuli quindi ecco qual è il concetto di riuscire a trasmettere quella che è la cultura umbra io l'ho spedita a un ragazzo nel friuli ah figo quella cosa che fai con devi spiegarla però spiegalà in un minuto ah niente è un progetto che si chiama ma beh no volevo insomma fare la protagonista del momento col progetto wine erasmus si vuole appunto portare uno scambio interculturale di vino tra persone su instagram quindi io ho spedito tre vini ad una persona nel friuli a friuli mi sono arrivati tre fini del territorio tre vini nel territorio e quindi si cerca appunto di creare comunicazione relazione basata diciamo tra gente del settore o no tra chiunque tra chiunque nel senso tra appassionati degustatori sommelier produttori insomma chiunque volesse partecipare wine erasmus aperto a tutti e io ho scelto la cantina scacciadiavoli come primo primissimo inaugurazione di questo grande progetto grande piccolo progetto scopriamo le cose in diretta a radio incredibile finalmente una punta di romanticismo da parte di voi donne in questa puntata vabbè io sono stata anche tecnica nella lettera che ho scritto questo vino si beve così quindi c'è proprio va bene è stato bellissimo a partire dal tuo nome grazie grazie per il tuo nome sei innamorato il nome bellissimo va bene io grazie grazie a voi grazie dell'invito grazie per averci seguito ciao a tutti e un bacio ah seguiteci su ricordami Nicola io i canali non mi ricordo ci potete seguire su abbonandovi a questo podcast su Spreaker su iTunes su Spotify attenzione ancora sulle piattaforme Google su diversi motori di ricerca dei podcast quindi sostanzialmente ovunque potete seguire anche l'istituto italiano design su Instagram potete seguire su Instagram Ellie on the road che fa le varie dirette quindi direi che siamo reperibili ovunque il mio numero è il 329 questo non quello di l'uno lo daremo perché sennò poi arrivano troppe richieste quindi continuate a seguirci e poi noi ogni settimana continueremo così tra l'altro volevo aggiungere del progetto Wine Elasmus martedì andranno dei ragazzi che tramite questo progetto vogliono conoscere la realtà di scacciadiavole quindi la comunicazione funziona ragazzi bomba io non posso dire di no perché è il nostro lavoro quindi è vero grazie a tutti per averci seguito grazie alla prossima alla prossima